Hanno convalidato l'arresto, ovviamente, ha chiesto scusa. È l'avvocato Roberto Bizzarri, difensore di Filippo Ferlazzo, a confermarlo al termine dell'interrogatorio nel carcere di Montacuto ad Ancona. Il giudice per le indagini preliminari ha stabilito che l'assassino di Alika Ogorciuku, il 39enne nigeriano, venditore ambulante di fazzoletti ucciso a Civita Nova Marche, deve restare in carcere. L'accusa è di avere ammazzato un uomo che non conosceva, che non gli aveva fatto nulla di male, quindi, secondo il GIP, potrebbe reiterare il reato e cioè uccidere ancora. Ferlazzo aveva un amministratore di sostegno, la madre che vive a Salerno. Era stata lei stessa a denunciarlo ai carabinieri quando lui l'aveva minacciata. Era stato sottoposto allora ad un trattamento sanitario obbligatorio per sindrome bipolare e disturbo della personalità. Ma adesso era libero di andare in giro e, come ha fatto venerdì pomeriggio nel centro di Civita Nova, di uccidere. Il delitto è avvenuto in momenti diversi, con una sequenza di fatti ben definiti, mettendo in atto una serie di tecniche di immobilizzazione prima e di strangolamento, poi terminate con l'uccisione dell'avversario. Un omicidio volontario, secondo il legale della famiglia della vittima. Che è chiaramente riconducibile ad una volontà, cioè andando fino in fondo. Sarà l'autopsia in programma per martedì a confermare la morte per soffocamento. La difesa chiederà la perizia psichiatrica nel tentativo di dimostrare che Ferlazzo al momento del delitto era incapace di intendere e volere.